A Napoli sono orgoglioso di venirci anche perché siederò sulla panchina dove ha giocato Diego Armando Maradona nel campo dove ha giocato Diego Armando Maradona e poi il tour dell'anima perché qui ci ha giocato lui e anche la città di San Gennaro è un po' la città dove il calcio e i miracoli sono la stessa cosa.